Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalpe. Buonasera e bentornate al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Continua la rassegna nel cuore della montagna con Davide Sapienza. Sabato 21 settembre a Nembro, in località Lonno, si terrà l'appuntamento con Equilibrium Nonno, Equinozio. Ritrovo alle ore 8.30 presso il parcheggio di Prato Fo a Lonno, percorso di media difficoltà. Prenotazioni presso la Biblioteca di Nembro. Sabato 21 settembre, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'Infopoint Montefarno a Gandino, si terrà la serata scientifica Marte, la vita sulla Terra dintorni, a cura di Antonio Del Mastro, direttore tecnico Mars Planet Technologies e co-founder Seriana Space Valley. Evento gratuito e si svolgerà anche in caso di maltempo. Bergamo Jazz torna in Val Seriana per un evento speciale, realizzato in collaborazione con Uniacque, società che gestisce il servizio idrico di Bergamo e provincia, Darni partner del Festival e della Fondazione Teatro Donizzetti. Sabato 21 settembre, alle ore 15.00 presso la Sorgente Nossana a Ponte Nossa, si terrà il concerto del trio formato dal francese Michel Godard alla Tuba, Serpentone e Basso Elettrico, dal sassofonista Tino Tracanna e dal batterista e percussionista Francesco D'Auria. Sabato 21 settembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di San Defendente a Clusone, prende il via la stagione concertistica 2024 di Musica Mirabilis, festival musicale internazionale Giovanni Legrenzi. Il programma prevede cantate e duetti, da cantate e canzonette a voce sola, opera dodicesima, Venezia 1676, ed idee armoniche estese, per due e tre voci, opera tredicesima, Venezia 1678. Domenica 22 settembre, vi aspetta la tradizionale staffetta di coppia non competitiva Colere-Polzone-Rifugio Albani, con partenza ai piedi della Presolana. Si parte alle ore 9 da Piazza Risorgimento a Colere, fino a raggiungere Rifugio Albani. Gara suddivisa in due tratti, Colere-Polzone, percorrendo il sentiero della costa di circa 4 km, con un dislivello di 600 metri, e Polzone-Rifugio Albani, dal sentiero CAI 404, circa 3,5 km, con un dislivello di circa 400 metri. Il gruppo sportivo Marinelli, con la collaborazione di Promoserio, organizza la terza edizione della gara di mountain bike Presolana Race. Domenica 22 settembre, infatti da Rovetta, prenderà il via la terza edizione della competizione ciclistica, con un circuito di 48 km e un dislivello di 1.600 metri. In occasione della rievocazione sui passi del Moroni, è in programma per domenica 22 settembre, alle ore 9.30, una visita guidata al Centro Storico di Albino, con diverse tappe che ripercorrono i principali luoghi morognani. Ritrovo e parcheggio al piazzale Piola Torre, ad Albino, incontro vicino al Campanile, con prenotazione su www.valseriana.eu sezione esperienze o presso l'ufficio turistico Scopri Albino. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Valseriana e in Val di Scalve sul portale www.valseriana.eu e prenotare le vostre esperienze direttamente dalla piattaforma online. Arrivederci e buona serata! Promo Serio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalve www.valseriana.eu www.valseriana.eu